Dopo aver smaltito la cosciente delusione seguita alla netta sconfitta casalinga contro la corazzata Akagas, la società dell'Unitas Shaka ha diramato una nota stampa attraverso la quale ha ringraziato i tifosi per la presenza e per la sportività mantenuta durante tutto il corso della giornata sportiva, prima, durante e dopo l'incontro. Il presidente, Gioacchino Settecasi, e tutto il gruppo dirigente intende ringraziare il e meraviglioso pubblico che ha riempito lo stadio come non si vedeva da decenni, che ci ha sostenuti fino alla fine, che ha anche saputo applaudire insieme a noi gli avversari come ci impone il nostro modo di intendere lo sport che tanto amiamo. Vedere tutti i posti della tribuna e della gradinata occupati da tanti tifosi ed appassionati, scrive l'Unitas Shaka, è stata un'emozione che ricorderemo negli anni, per la quale tutti meritano di essere ringraziati ad uno ad uno. Possiamo farlo solo in un modo, accettando la sconfitta e ripartendo, con entusiasmo ed impegno, dal lavoro su quello stesso campo del quale riconosciamo il verdetto, per quanto duro e probabilmente ingiusto nel punteggio. Società Nero Verde che, oltre a riconoscere i meriti del forte avversario e a ringraziare il grande pubblico, nella nota mette nero su bianco il fatto che l'organico della squadra va migliorato e rimpolpato. Non è chiaro se ciò avverrà a dicembre con la riapertura del mercato invernale, oppure se si proverà a farlo da subito, provando a scandagliare il cosiddetto mercato degli svincolati. Quello che è certo è che ci sono dei ruoli evidentemente scoperti. Società che, poi, nella nota, difende a spada tratta tutto lo spogliatoio, mister Brucculeri e lo staff. Si vince e si perde tutti insieme, si legge nella nota stampa. Riconosciamo i meriti dell'Agrgas, che qui a Sciacca ha fatto una bellissima partita, e ringraziamo a nostra volta i nostri avversari, per averci dato pubblicamente atto di essere stati accoglienti e sportivi con loro, come è nel nostro DNA cittadino, prima durante e dopo la partita. Cioè, anche mentre stavamo vivendo, la grande e comprensibile delusione per un risultato pesante. Nota stampa, quindi, che intende indicare la forte unione e coesione di intenti all'interno dello spogliatoio nel nero-verde.